Bene, buongiorno, vediamo alcuni piccoli trucchi per importare oggetti tridimensionali attraverso magari il plugin di Sketchfab qualora questi oggetti siano enormi per enormi io intendo oggetti che superino i 100.000 vertici e questo è il caso, ad esempio, di questo primo oggetto che mi presenta che è il castello, adesso lo evidenziamo, praticamente il Children's Castle in Avdika quindi è un castello dei bambini ad Avdika e come vedete, fatto da Mr. Unity Creative Commons Attribution Commercial quindi potete usarla per motivi educational sicuramente però abbiamo una quantità abbastanza assurda di vertici quindi siamo ampiamente oltre i 100.000 vertici, come ho detto prima quindi siamo 100 volte di più quindi vedete che il modello in questo momento impegna per 90 MB lo proviamo a importare quindi vedete che abbiamo l'import del modello ok, ci impiega adesso tutto a parte qualcosa che poi taglierò ma questa parte qua ancora ce la dovremmo fare in tempo reale nel senso che ci impiega relativamente poco ecco, la primissima cosa da osservare è che il castello non si vede perché non si vede? Perché ce l'ha portato in punti poco sdossi vedete che l'ha messo girando con la rotellina vedete che l'ha messo veramente troppo alto quindi troppo alto vuol dire che è al di fuori cioè non è allineato correttamente l'origine è a zero e il castello è qualche chilometro più su quindi una cosa del genere portato in qualunque mondo virtuale non va bene allora, la primissima cosa che faccio è di innanzitutto di prendere le 28 parti di cui è composto questo modello quindi lo seleziono dalla gerarchia seleziono solo tutti i vari quindi sto facendo shift e poi sto selezionando tutti i materiali model material fino al 28 ok e poi a questo punto provo a fare ctrl j perché voglio avere un unico elemento ok e quindi l'ha fatto se non vi funziona così selezionatelo e fate il riquadro tipo questo e poi fate ctrl j qua sulla finestra principale questo punto diventa unificato quindi un po' più facile da gestire ma abbiamo ancora il grosso problema che è fuori e è accentrato quindi dobbiamo prima di tutto prendere l'origine che sarebbe questo pallino vedete arancio e metterlo all'interno della geometria e questo lo si fa andando su object facciamo set origin e facciamo origin to geometry origin to geometry per mettere il punto cardine dell'oggetto e infilarlo all'interno della geometria quindi facendo così ecco vedete che è sparito il punto arancio che è comparso invece è andato laggiù e a questo punto la seconda cosa che faccio è cercare di riportare il mio oggetto sull'origine e questo perché così diventa molto più facile da gestire nei mondi virtuali quindi facciamo sempre object e gli facciamo un clear location allora clear location praticamente serve per farlo in modo tale che l'origine diventi zero cioè appunto l'origine a questo punto visto che l'origine siamo riusciti a metterla dentro la geometria il nostro oggetto diventa usabile clicchiamo il punto del tastellino numerico in modo tale da vederlo meglio e ricordiamoci di cliccare questo per vedere il nostro oggetto ora questo diciamo è la primissima primissima cosa adesso andremo avanti e partire da questo ma finiamo il video con queste prime due operazioncine elementari e cioè il mettere l'origine dentro la geometria possibilmente e mettere la geometria e l'origine all'origine questa cosa permette di rendere facilmente fruibili gli oggetti che troviamo su Sketchfab qualora siano costruiti male tra virgolette e aggiustarle praticamente le proprietà elementari ok